Tutto motore, via i piedi dai freni Siamo aperto in offlanda e con la pedaliera chiedi senza questa brua, hai pure un po' Cari amiche e cari amici, per Festivalare 2021 Online Edition siamo qua nel parcheggio dell'aeroporto Caproni Trento con l'amico Marco Fozzer, pilota di grande esperienza oltre che istruttore nel settore WDS e ci piacerebbe con lui dialogare un attimo su cosa? Su queste meravigliose macchine da volo e da riporto esportivo che rappresentano un po' la punta di diamante all'interno di un mondo fatto di macchine e di mezzi di diversità incredibile, di estrema heterogeneità Raccontaci un po' di cose Allora, buongiorno a tutti, ciao Queste sono delle macchine fantastiche, sono delle macchine che stanno facendo il futuro dell'aviazione Nel senso che si era passati da macchine molto leggere che non potevano superare i 450 kg, erano tubi e tela, erano macchinette che volerano piano con dei motori Rotax Se sono rimasti ancora motori Rotax Ma nel tempo hanno subito un'evoluzione molto importante anche loro, consegnando delle potenze interessanti Questo per esempio è un motore turbo da 115 cavalli, ma ce ne sono anche di più importanti Noi abbiamo iniziato la nostra scuola nel 2006 Quando le nuove normative hanno potuto portare le scuole negli aeroporti Perché noi stiamo lavorando sull'aeroporto di Trento E dal 2006 abbiamo aperto la nostra scuola puntando subito con una macchina molto molto importante sotto un profilo proprio formativo Con un bellissimo progetto aerodinamico alle spalle, questa è una Maizzer Romeo 2SR, è una macchina fatta dalla Dinaro È tutto in carbonio, è una macchina che pesa 475 kg con un paracadute balistico per garantire la sicurezza passiva ai nostri... Ecco, su questo spieghiamo, perché molti non lo sanno, quando parliamo di paracadute balistico non riescono bene a interpretare Di cosa si tratta esattamente? Paracadute balistica è uno strumento che garantisce una sicurezza passiva Ove se ci fosse un problema che il pilota non può gestire o non si sente di gestire, un'emergenza ad esempio C'è la possibilità di aprire un paracadute che porta e esce con una carica esplosiva, con un piccolo razzo Che può essere attivata a qualsiasi velocità e porta la macchina a terra in maniera sana Diciamo, si spaccherà il carrello, però diciamo che non ci saranno danni al pilota e anche non troppi danni alla macchina, insomma è un mezzo di sicurezza Con questo veicolo facciamo una scuola basica, però la performance di questo veicolo è molto importante perché a costi bassi garantisce prestazioni molto importanti Perché qui si parla di una crociera economica, quindi non fatta a pieno motore, diciamo a 75% della potenza A 120 nodi, 120 nodi sono il corrispettivo di 235 km all'ora per chi non è abituato a bazzicare di nodi e di piedi Quindi è una velocità molto importante che su questa categoria è più veloce dei mezzi di aviazione generale normali che siamo abituati a vedere Tipo parlo dei Cessna, dei Piper che normalmente vediamo nei nostri Celi Questo ovviamente è una macchina da volo di porto sportivo, che differenza c'è tra il volo di porto sportivo e l'aeronautica generale? Allora diciamo che anche a chi si approccia, l'aviazione generale ci porta al conseguimento di una licenza Una licenza su cui si può costruire anche una parte commerciale, quindi in parole povere serve per lavorare nell'ambiente aeronautico Per fare il pilota di professione e quindi per portare in giro i passeggeri Il volo di porto sportivo attualmente è invece un attestato, quindi non è una licenza Questo è un attestato che ti consente di volare su macchine di una certa cortina leggera, fino a 475, speriamo che arrivi a 600 Però consente di imbarcare due passeggeri Ed è soltanto per scopi creativi o comunque per scopi privati, ma non commerciali Cosa che invece l'aviazione generale, che parte sempre da un brevettino basico, che però consente poi di costruire un percorso che ti porta a poterci lavorare con questa licenza Mentre qui ci si ferma quello che è l'aspetto ludico sportivo sostanzialmente Comunque chiaramente è una prima porta d'ingresso nel mondo aeronautico con costi abbastanza contenuti È una prima porta d'ingresso nel mondo aeronautico, consideriamo che il costo è sui 3.500 euro per ottenere un brevetto Quindi è alla portata abbastanza di tutti, certo un po' di impegno economico c'è Molto di più un impegno che in passione e in voglia di imparare, ecco questo sì Questa elica chiaramente, perché quadripala? Perché pur essendo un po' meno efficiente della bipala in termini di velocità Garantisce invece una spinta maggiore e un freno anche più importante in caso di discesa Quindi ha anche un diametro ridotto e questo fa sì che il rumore complessivo del mezzo è più basso Perché bisogna stare anche attenti a quello che è il rumore prodotto da queste macchine L'elica è passo variabile in modo che posso, a seconda delle velocità che utilizzo, ottimizzare la prestazione della stessa Un'altra particolarità di questa macchina sono le winglet che vedete, sono questi baffi alle estremi talari Questi servono per diminuire la resistenza indotta complessiva dell'aereo La resistenza indotta è un fenomeno molto importante perché frena tantissimo l'avanzamento del nostro aereo La resistenza indotta è data proprio dal rimescolio, dall'ingarbugliamento dei fletti fluidi che si creano sopra l'ala e sotto l'ala Qui all'estremità per chiuderli meglio nel tempo si sono creati molte soluzioni Questa è una delle soluzioni più importanti, la vedete anche sui grossieri, sui grossi liner, sulle grosse macchine E anche in fase di atterraggio ha una sua funzione, giusto? Riduce il galleggiamento della macchina Riduce la resistenza, quindi rende la macchina più pulita in maniera generale Un'altra cosa molto interessante è questa apertura nei flap, se la vedete qui sotto, vedete che qui è libero Questo garantisce il passaggio da sotto a sopra dell'ala garantendo una portanza maggiore, diciamo, efficienza maggiore del flap E questo consente anche quindi una velocità diciamo molto più bassa in avvicinamento Esatto, posso diminuire tantissimo la velocità di avvicinamento, che è quello che ci serve quando atterriamo Assolutamente Sì, non atterrare nella velocità più bassa Quindi la velocità di stallo è una velocità particolarmente bassa Esatto, quindi con la stessa ala posso variare il coefficiente di portanza e quindi incrementarlo tantissimo Quando è fuori completamente posso triplicare il coefficiente di portanza sulla stessa ala Un'altra cosa importante Bella la coda T Vedete che avete una coda T, la coda completamente mobile E qui questo sistema chiaramente sarebbe completamente mobile Quindi non avrebbe nessun ritorno sui comandi del pilota Quindi sulla cloche, ogni movimento corrisponderebbe a un movimento successivo ed eccessivo Che viene frenato da questa letta compensatrice Questa qui, la vedete, si chiama TAB E infatti il sistema è anti-TAB Vuol dire per poter trasferire lo sforzo delle superfici sulla cloche Così che il pilota possa capire quanto sta tirando Infatti vedete che man mano che si è esposto su tutto l'equilibratore anche il TAB va su Posso far notare che piccolo è il timone di direzione Sapete che il timone di direzione di una macchina è molto importante Questa è una macchina di grasse prestazioni, di grande velocità E quindi con un piccolo, con un superficie limitato Come del resto sono limitati anche gli alettoni Se li guardate adesso nel confronte del flap potete capire quanto siano Anche i cerioni sono in carbonio Questa è l'uscita del paracute balistico Vedete quello di cui parlavamo prima Da qui esce il razzo e qui sotto sono nascosti dei cortili d'acciaio Che legano su tre punti l'aereo Quindi due punti davanti e uno dietro Esatto Ecco anche questo è il paracute balistico E' sempre più diffuso La Cirrus è stata un po' la prima Nell'aviazione generale la Cirrus è stata la prima In questo momento è rimasta anche più sulla prima Mentre nel campo dell'aviazione generale Adesso è diventato un qualcosa Un accessorio importante E anche Mast se vogliamo poi avanzare Questa nostra attestatino Che all'inizio era un attestato semplice Dopo un po' di attività che il pilota fa Può diventare avanzato E se la sua licenza La sua attestata viene usata su una macchina avanzata come questa Le possibilità di andare in giro per gli spazieri Sono esattamente quelle di un pilota Che ha una licenza di direzione generale Non sono campi volo ma anche aeroporti Spazieri controllati Piani di volo Volo all'estero Ovviamente macchine a doppi comandi Come tutte le macchine di questo tipo Adesso vi apro così potete vedere il cruscotto Un cruscotto pulito Moderno La macchina è stata anche di un pilota automatico Che chiaramente non consente il decolo e l'atterraggio Ma consente di stabilizzare una traiettoria o una navigazione Bene Grazie Marco veramente per questa descrizione È stato molto bello poter apprezzare una macchina Che ha evidentemente delle caratteristiche Che la pone ai vertici Diciamo del mercato attuale Nell'ambito del volo di porto esportivo È chiaramente anche per i giovani Che si avvicinano un po' a questa disciplina Come dire una bella porta d'ingresso Perché nell'immaginario collettivo Il volo di porto esportivo È ancora tubi e tela È ancora piccole macchine dalle basse prestazioni Questa è una macchina invece assolutamente sofisticata Con grandi prestazioni Con delle belle possibilità per divertirsi Certo è una macchina che non ha nulla a che vedere Con il tubi e tela Anzi è una macchina molto evoluta Che diciamo è assolutamente più assimilabile A una macchina di viazione generale Teniamo conto che le nuove normative Che poi consentono di registrare le ore di volo Fatte sull'aereo ultraleggero E mantenerle per le ore minime di attività Che devono essere fatte Sulla licenza di viazione generale Quindi è molto importante Anche un riconoscimento di questa evoluzione Che c'è stato nel settore del VDS Che penso nel futuro evolverà ancora Verso una licenza vera e propria Una licenza che sarà light Probabilmente una light sport aircraft In America c'è light sport aircraft Fino a 600 kg Passerà una licenza a tutti gli effetti Magari facilitata Per consentire a tutti Magari esatto Rinunciando a questa anomalia tutta italiana Che vede appunto il VDS Separato dall'aeronautica generale Quindi in tutta Europa Macchia di Lopardo C'è questa separazione D'aviazione generale In Germania c'è un microlight In altri Ce ne sono altri tipi di soluzioni C'è allo studio In EASA Un'attività Per normalizzare Tutte queste attività Che si concluderà Spero nei prossimi anni Con una piccola licenza Ad uso sportivo Ottimo Marco Fozza Grazie mille per questa descrizione Ringraziamo ovviamente Chi ci ascolta Di aver partecipato A questa descrizione Per oggi Dall'aeroporto Caproni è tutto Alla prossima puntata Grazie Tutto motore Via i freni Siamo aperto Il nostro hangar E con la pedaliera Chi è di senso Questa blu Hai pure i posti Sì 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 Sì